Oggi è stata una giornata importante, ho incontrato il Ministro dell'Interno al Viminale, subito dopo il suo capo di gabinetto. Abbiamo discusso della situazione complessiva dell'ordine della sicurezza pubblica in città, ho rappresentato il lavoro importante che si sta facendo in comitato e tutte le forze in campo da questo punto di vista. Ovviamente anche al Ministro ho chiesto la necessità di un rafforzamento del controllo del territorio e di tutte le attività in corso. Credo che il Ministro verrà a Napoli nelle prossime settimane, ho anche illustrato le preoccupazioni recenti delle sparatorie che sono avvenute in particolare nel quartiere Sanità e nei quartieri spagnoli. Poi abbiamo parlato però anche di finanza locale, della situazione di non più sopportabilità delle casse dei comuni e del Comune di Napoli in particolare e che il Governo deve cambiare completamente passo nell'atteggiamento normativo e finanziario nei confronti degli enti locali. Un contro reputo importante, proficuo, concreto e al quale mi auguro possano seguire sviluppi altrettanto efficaci e concreti nell'interesse della nostra città e delle aspettative dei nostri abitanti.